Il frattina lancia con queste carte, più 15, il frattina, e vediamo Tosi che beve il più 15 con queste carte, oia, ora vediamo il croupier pigio, mette il pop, K66, attenzione, la parola al Tosi, check, check, come check check? Il turn, as Tosi, 10, cutiu, cutiu, attivi di tensione amici, frattina ci pensa, ma vediamo ancora le carte, E c'era quella di san zi che dei bambini anche lì, la parola al vientre ci pensa, non aveva il Lorenzobertrico sia dei 59 dopo che seg duża e Greta è un po kinda rispetto a live, tu stai cercando, non scappa manco sei ben vogliato, tutto riuscito a cercando il cuore c'è iscrivetevi e iscrivetevi e stai facendo la mia eeeh 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 questo è un'ottima partita di poca, è una partita di grande Grazie a tutti.